Buonasera a tutti quanti, questa sera sono 27 gradi all'ora 1 e 24 minuti e martedì 25 luglio 2023 io non ho mai visto a suo tempo, caldo freddo, caldo freddo, poi a luglio, posso capire gennaio, febbraio, posso capire ma non a luglio, luglio in 37 anni non ho mai visto a suo tempo tra poco siamo in vera, non tra poco, ma non tanto per il freddo o il caldo, i tornadi che sono successi in questi tre giorni non lo so come andremo a finire, vi auguro buonanotte, ci vediamo domani, ciao a tutti